Hanno utilizzato spranghe d'acciaio, bastoni di legno, catene e persino una pistola a giocattolo. 15 persone, fra le quali una donna, sono state arrestate nella notte fra sabato e domenica a Canosa di Puglia, nella Bat. Hanno scatenato una violenta rissa all'interno e poi all'esterno di una discoteca-ristorante, il Twins Pub. Numerosi feriti con lesioni guaribili fra i 5 e i 30 giorni. Un uomo è stato ricoverato all'ospedale di Cerignola per essere sottoposto ad intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita. 10 dei 15 arrestati sono residenti a Cerignola, 5 a Canosa, si trovano tutti nel carcere di Trani. Sul posto sono intervenuti i poliziotti e i carabinieri di Canosa e i carabinieri della compagnia di Cerignola, allertati da diverse segnalazioni. La miccia della rissa di Carnevale sarebbe stato un diverbio fra due gruppi di giovani, uno formato da ragazzi di Canosa, l'altro composto da persone di Cerignola. Dalle parole si è passate alle mani, con lancio anche di oggetti contundenti, per sedare gli animi ormai incontrollabili è stato necessario l'intervento della forza pubblica.